Il provvedimento autorizzativo per la fase 2 del progetto Argo Cassiopea potrebbe arrivare in settimana. Sia SNAM che Eni hanno dato i riscontri richiesti dal dirigente Emanuele Tucci e dai tecnici comunali dopo le recenti riunioni indette proprio per fare l'appunto della situazione. Come sottolineato nel corso di una delle recenti conferenze di servizi dal responsabile della riserva Biviere, Emilio Giudice, c'erano dubbi su un'area ancora sottoposta a sequestro e riconducibile proprio a SNAM. La scorsa settimana le aziende hanno dato riscontro. L'area è stata dissequestrata. SNAM deve quindi procedere con l'iter per un progetto di riqualificazione ambientale già concordato da alcuni anni e proprio Eni ha dato conferma del dissequestro. Erano gli ultimi passaggi preliminari. Le risposte delle aziende sono state ricevute a Palazzo di Città. Si tratta di note proprio inviate dalle due società, lo spiega anche la dirigente Tuccio. In settimana quindi si potrebbe definire l'ultimo provvedimento autorizzativo. Non è da escludere che l'autorizzazione per le opere a terra possa seguire lo stesso schema di quella di un anno fa che invece consentì i primi interventi nell'area del progetto per il gas. Quindi una via libera con una serie di prescrizioni ambientali da osservare. Il confronto proprio in questo periodo è iniziato anche sulle prescrizioni poste lo scorso anno. C'è già stata una prima verifica con un tavolo che ha messo insieme comune riserva BVR e la società incaricata da Enimed per seguire gli adempimenti ambientali. Sempre la scorsa settimana è stato comunicato che sarà Saipem ad occuparsi della posa della gas pipeline del progetto con un contratto da circa 300 milioni di euro. I sindacati attendono che i lavori partano così da permettere l'assorbimento di mano d'opera per un lungo periodo. Rimane invece in sospeso almeno per l'amministrazione comunale il capitolo delle royalties estrattive del progetto. La normativa infatti esclude introiti per l'ente locale nonostante il maxiprogetto ricada sul territorio comunale lungo la costa locale con il governo nazionale e con quello regionale che devono essere rinnovati. Ad oggi sembra quasi impossibile pensare ad un'intesa che deroghi alla normativa e consenta al municipio di avere una quota delle royalties. Le attività per Argo Cassiopea sono previste principalmente nelle aree dell'isola 27 e dell'isola 30 della raffineria di Contrada Piana del Signore, almeno per quanto riguarda le opere attività.